Mi hanno detto di mettermi qua e di vestirmi così per dare una immagine di maggior naturalezza, come se fossi seduto nel vostro salotto. È chiaro che è tutto un po' artificioso, però effettivamente io vorrei venire in casa vostra, vorrei stringervi la mano, vorrei bere con voi un caffè. Perché invece desidero raggiungervi con questo messaggio, raggiungere tutti, raggiungere la gente delle nostre comunità, raggiungere anche quelli che non vengono, non partecipano alla vita della nostra comunità, ma sentono il desiderio di un senso di appartenenza, perché mi sta a cuore, in un certo qual modo sentirmi vicino a tutti e dire per quel che posso una parola che dice un po' il mio punto di vista, il mio incoraggiamento in questo momento. È chiaro che il primo pensiero, la prima parola va a coloro che sono malati, a coloro che sono ricoverati, alle loro famiglie, a quelli che sono in quarantena per cautela, e quindi vivono proprio un po' più direttamente la sofferenza e anche la trepidazione di questo momento. E anche il mio pensiero, la mia gratitudine va al personale sanitario, che sono sottoposti a uno stress e a un tipo, a un ritmo di lavoro veramente straordinario, per fatica, per apprensione. Ecco, quindi desidero farmi voce di tutti coloro che devono dire la loro grazie al sistema sanitario, ai medici, agli infermieri, a tutto il personale. Questa è la prima parola. E poi ecco, vorrei dire una parola per noi cristiani, che viviamo un momento particolarmente segnato dall'interruzione delle attività e dalla impossibilità di partecipare alle celebrazioni. E dunque oggi, venerdì di quaresima, il rito ambrosiano mette come caratteristica proprio la non celebrazione dell'eucaristia. E quindi è un po' un simbolo di questo tempo, un venerdì di quaresima che si prolunga per tutta la settimana. E quindi anche nei giorni prossimi celebreremo la messa, ma non sarà possibile la presenza dei fedeli. Dunque, una cosa mi impressiona, no? Che c'è una messa senza fedeli e ci sono dei fedeli senza messa. Però vorrei dire questo. Ecco, la messa senza fedeli è solo l'impressione visiva, fisica. In realtà il prete che celebra nella sua chiesa, vuota, il prete sa che voi siete presenti, il prete vi porta tutti davanti al Signore, il prete legge per tutti il Vangelo, anche se non potete essere lì fisicamente per questo periodo. E dunque nessuno dice non posso partecipare alla messa. Sapendo questo, il mio prete mi pensa, il mio prete sa persino dov'è il mio posto sulla panca e quindi in questo momento si ricorda di me, di quello che gli ho confidato, della mia storia, della mia collaborazione. Quindi ecco, questa è la cosa. C'è sì una messa senza fedeli, ma in realtà il prete celebra dentro la comunione dei Santi, quindi vuol dire dentro l'assemblea di tutti che sulla terra e nel cielo cantano le lodi di Dio. Quindi celebriamo pure così, per quanto saremo costretti a fare, accettando le indicazioni del Presidente della CEI, del Presidente del Consiglio. Ecco, io come dico non ho abolito nessuna messa, ecco, tutte le messe si celebrano. Soltanto detto rispettiamo le indicazioni che ci vengono date. Dunque messe senza fedeli vuol dire messe senza la presenza fisica dei fedeli, ma con una presenza affettiva, con una presenza di comunione che continua ad essere quella di sempre. E poi ci sono dei fedeli senza messa, ecco, penso a tutti voi. e dico che cosa può significare questo essere dei fedeli che desiderano l'Eucaristia e che per un po' non possono partecipare. Beh, prima di tutto mi sembra che questo voglia dire che il precetto festivo, come si deve dire, non è infranto, ecco, che ciascuno, non potendo andare a messa, deve sentirsi esonerato dal precetto festivo e cercare di adempierlo se gli è possibile assistendo alla trasmissione della messa in televisione. Non è la stessa cosa, ma in questo momento è l'unica possibile. Quindi vi invito a partecipare. Io stesso celebrerò domenica una messa, però tanti altri preti lo fanno, tante altre trasmissioni rendono possibile questo. Quindi fedeli senza messa, però non proprio del tutto senza messa. Poi voglio dire anche questo, con questo digiuno eucaristico forse possiamo sentire più realistica la familiarità, la condivisione con tutti quei milioni di fedeli che in ogni parte del mondo tante domeniche non possono andare a messa perché non c'è la messa, perché il prete viene quando può e quindi tante comunità cristiane vivono così con la partecipazione quasi come fosse un'eccezione la messa domenicale. Ecco, sentiamo quello strazio di un desiderio che non può essere soddisfatto non solo per qualche settimana, ma per tutta intera la vita di una comunità. preghiamo per le vocazioni, diciamo come sarebbe bello che in tutte le parrocchie, in tutte le comunità del mondo ci fossero abbastanza preti per celebrare la messa. Dunque fedeli senza messa, ma non estranei a questo evento. E poi un'ultima cosa che vorrei dire è questa. probabilmente molti vivono questo periodo avendo molto tempo libero comunque non potendo fare le cose che di solito si fanno e il tempo libero è una grave tentazione ma può essere anche una grande opportunità perciò io vi invito, cercate di usarlo bene il tempo forse quella dedicazione alla preghiera di cui talvolta si dice è impossibile perché siamo sempre di corsa, forse almeno per alcuni in questo periodo è più possibile andate in chiesa, state lì da soli a pregare, pregate pregate per me, per voi, per la vostra famiglia, per questa società sentite come è anche questo tempo in cui si può stare in silenzio in cui si può meditare la scrittura questo è un tempo di grazia anche se non è come magari lo possiamo immaginare e penso ai ragazzi e agli adolescenti che sono a casa da scuola cosa fate tutto il giorno? cercate di far qualcosa di buono cercate di studiare, cercate di rendervi disponibili per un po' di attenzione andate a fare la spesa per la nonna imparate come si fa a cucinare lavate i vetri, non so, fate qualcosa per cui il vostro tempo possa essere un tempo sottratto alla noia imparate che c'è una gioia nel rendersi utili anche in casa nel telefonare a chi si sente solo usate bene il tempo e anche io chiedo insomma a tutti quelli che possono ai preti, agli insegnanti insomma a quelli che si preoccupano dei ragazzi trovate qualcosa da fare lanciate dei messaggi, non solo dei compiti da fare anche qualche idea un po' più originale su come un adolescente, un giovane, un ragazzo possono usare il tempo ecco mi pare che questo incrementare la fantasia per rendere questo periodo un periodo anche di qualità spirituale, relazionale caritatevole ecco questo mi pare una cosa che vi voglio raccomandare ecco e non so poi potremmo forse dire con un segnale che stiamo vivendo che cerchiamo di vivere bene che cerchiamo di darci gioia a vicenda anche in questa situazione non so mi è venuto in mente ma forse domenica a mezzogiorno potreste fare una scampanata ecco fare una scampanata per dire domenica anche oggi magari uscire di casa andare al vicino sul pianerotto e dirgli buona domenica magari prendere il telefono chiamare un amico chiamare una persona con cui avete litigato e dirgli buona domenica magari andare per le strade dire buona domenica intanto che le campane suonano ecco noi non abbiamo un modo per risolvere presto questo problema però abbiamo una possibilità di viverlo bene ecco per questo vorrei entrare nel vostro salotto vorrei sedermi nella vostra famiglia vorrei rivolgervi una parola sono costretto a rivolgervelo da questo salotto il mio salotto quindi piuttosto dignitoso come si conviene all'arcivescovo di Milano però insomma è diverso ecco dall'incontro personale e così allora voglio esservi vicino celebrerò la via Crucis in questi venerdì in qualche maniera sarà accessibile via radio anche nelle diverse zone pastorali e lì fisseremo lo sguardo su Gesù e quindi impareremo ad attraversare anche la tribolazione come occasione d'amore coraggio buona quaresima buon cammino e per domenica buona domenica suonate le campane a mezzogiorno buona domenica